Questo frigorifero combinato di Whirlpool ha una capacità di 288 litri, i ripiani in cristallo, un ripiano portabottiglie in acciaio, comandi elettronici e illuminazione a LED. Tutto in classe energetica A+. Con la sua altezza di 193 centimetri, Everest offre fino a 33 litri di spazio in più rispetto ad un frigorifero tradizionale, grazie ad un utilizzo efficiente dello spazio nella cavità. È progettato per essere installato perfettamente nella colonna standard della cucina. Con la tecnologia Sesto Senso Fresh Control, i cibi restano freschi quattro volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità. Per tutti coloro che desiderano un frigorifero con maggior capacità interna, sfruttando al massimo la colonna cucina. Con il sistema innovativo Stop Frost, sbrinare il freezer non è più un problema. Basterà infatti aprire il freezer, rimuovere l'elemento Stop Frost dove si è depositato il ghiaccio e pulirlo sotto il getto dell'acqua. Tutto questo in un minuto, senza spegnerlo o svuotarlo.